Due cittadini albanesi di 26 e 28 anni sono stati arrestati nella notte dalla polizia che li ha colto in flagranza mentre stavano tentando un furto all'interno di un bar. I due che avevano appena tentato di introdursi all'interno del locale nella zona di Molinaccio a Duzzano sono stati intercettati e fermati dal personale della squadra mobile con l'ausilio delle volanti del commissariato di Montecatini Terme. Durante la perquisizione dell'auto sulla quale avevano tentato di allontanarsi è stata rinvenuta una somma di denaro composta da monete spicciole sulla cui provenienza sono in corso accertamenti nonché arnesi da scasso e altro materiale per la commissione di furti e reati contro il patrimonio. Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria di Pistoia per il rito direttissimo. I due sono accusati del reato di tentato furto aggravato. La polizia di stato nelle ultime settimane ha intensificato i servizi predisposti nella zona della Val di Nievole volti alla prevenzione dei furti in appartamento e presso gli esercizi commerciali che destano particolare preoccupazione tra i cittadini della zona.